Ciao ragazzi, eccomi tornata con una nuova puntata di questa nuova rubrica Cosa mi metto Devo dire che sono stata davvero contenta perché ho visto che la prima puntata è andata davvero bene nel senso che ho visto che vi è piaciuta molto e sono davvero contenta anche perché ci speravo visto che era una cosa diciamo nuova Questa settimana ho proposto un outfit totalmente diverso da quello della scorsa In questa foto, come vedete, ho scelto un outfit molto molto sportivo Ho pensato, essendo anche la settimana di ferragosto, molte partono e quindi magari potrebbe essere carino fare un outfit e per le vacanze adatto per girare una città per andare in giro Ho scelto di abbinare questa camicetta rosa e con degli shorts con una fantasia floreale Come vedete sono molto colori pastello, colori chiari che a me piacciono tanto Anche il blu comunque non è un blu forte E ho voluto abbinare delle superga rosa, sono quelle della collezione di Chiara Ferragni E accessori sul blu Per questo ho scelto poi di fare un trucco molto sul rosa Con appunto questo accenno di blu nella rima inferiore dell'occhio Ma soprattutto è un trucco con pochi prodotti E quindi diciamo che si può ricreare in vacanza Visto che non possiamo portarci tutto purtroppo Quindi niente, vi lascio al tutorial Fatemi sapere se vi piace E ci vediamo alla prossima Ciao! Visto che è un video pensato per le vacanze Cercherò di fare il trucco con meno prodotti possibili E meno anche ingombranti possibili da poter portare in viaggio Inizio subito mettendo un correttore Ho scelto questo della Sobio compatto Anche per non avere problemi di liquidi E questo è il correttore 01 Beige Claire E lo applico con le dita Così andremo anche a usare meno pennelli possibili Visto che in viaggio non ce ne possiamo portare tutti Applico un primer sull'occhio E utilizzo questo della MUA Il Pro Base E come sempre ci stiamo alle sopracciglia Con la material Benecos La Natural Abro Designer Per il trucco che useremo questa palettina della Essence La 01 All About Nude Che appunto ha tutti i colori del nude Ma avendo colori più chiaro e più scuri E la trovo una palettina comoda da portare in vacanza Pratica Perché ci fa fare diversi tipi di look Visto che però i colori non sono particolarmente scriventi E sono anche un po' polverosini E voglio fare un trucco sui toni del rosa Vado a stendere sulla parte bra e mobile Questo matitone della Essence Che non si legge assolutamente nulla Ed è della collezione Blue Me Up Ed è il duo eye pencil Vado ad usare non quello In pratica questa è una parte per l'arima interna E una parte per l'arcata sopraccigliare Vado ad utilizzare la parte per l'arcata sopraccigliare Perché è più rosa E nonostante non sia per l'arima interna E comunque è morbidissima Quindi la stendo sulla palpebra mobile E la sfumo con il dito Come vedete una volta sfumata È quasi impercettibile E rende solamente la palpebra più chiara ed uniforme Però adesso andrà ad aumentare sia la durata degli ombretti E sia ad intensificare nel colore E come pennelli utilizzo Visto che comunque in vacanza non ne possiamo portare troppi E utilizzo questo set da viaggio della Neve Cosmetics E si chiama il set Acqua Ha 4 pennellini per il viso E 2 pennelli Eh sì 4 pennellini per gli occhi E 2 pennelli per il viso E con il pennellino questo qui piatto Dalla mia palettina E vado ad applicare Questo rosa qui Su tutta la palpebra mobile Come vedete non è un ombretto Particolarmente scrivente Però è una palettina fine buona così per le vacanze Con un pennello da sfumatura Io utilizzo questo qui E vado a prelevare l'ultimo colore Che è questo marrone caldo Con una punta di viola all'interno E lo applico E alla fine dell'occhio E nella piega Come vedete nonostante La palettina non sia insomma delle migliori L'effetto rimane molto molto carino Ora nella rima interna dell'occhio Vado a rimettere la matita Che vi dicevo prima Utilizzo sempre la parte dell'arcata Che è più rosa In questo modo Come vedete Avrà ancora di più lo sguardo E dà più luminosità E adesso Sotto l'attaccatura delle ciglia inferiori Andiamo ad utilizzare Questa matita blu Che è una matita Kiko Non so se Era un'addizione limitata O è una linea permanente Non lo so Cajal Pencil La 109 La vado a mettere sotto l'attaccatura delle ciglia Con il pennellino da eyeliner La vado a sfumare Dunque voglio un effetto molto leggero E non voglio un trucco troppo forte Essendo anche da giorno Alla fine Con la matita Rosa di prima Rivado a passare la linea interna Perché come vedete Sono un po' sporcata Con il blu Ok Prendo il pennellino di prima Con cui ho steso il rosa Vado a riprendere il rosa E creo qui un punto luce Io riuscito la matita rosa Come vedete È molto protagonista Di questo make up E la vado anche ad applicare Sotto l'arcata sopraccigliare Infine Applichiamo il mascara Io utilizzo questo Della Essence Il multi action Il trucco occhi è terminato Faccio l'altro occhio E torno Eccomi qui Passiamo ora al resto della base Visto che comunque fa caldo E quando si va in vacanza Si sta in giro tutto il giorno E come fondotinta Decido di utilizzare Un fondotinta minerale E utilizzo questo di neve Che è il Mineral Eye Coverage Mineral Foundation Io ho la tonalità light rose Ecco questo Per questo tipo di fondotinta Serve un pennello Che non è nel set Ma è comunque piccolino Vedete comunque come gli altri Ed è il flat boogie E io utilizzo Questo qui Che è di neve Vado poi a stendere Una terra E utilizzo Una terra opaca Utilizzo questa Della Essence La Sun Club Nella colorazione 01 Natural E utilizzo Questo pennello Per il blush Visto che A meno a me N'estate dura davvero poco Se Non ci sto un po' su Allora ho deciso di Usare questa combinazione Ovvero un blush in crema Della B-Sick E un blush in polvere Della Mua E di solito Quello in crema Questo qui Lo sfumo con il pennello Due fibre Ma visto che In vacanza Abbiamo detto Poi i pennelli Lo sfumiamo con le dita E questo bellissimo Colore pesca E ora Andiamo a passare A pressare Con questo blush Della Mua Che sembra molto più chiaro Ma è leggermente più chiaro E non alta Dal colore In questo modo La durata È davvero molto alta Ci mancano solo le labbra Voglio rimanere comunque Labbra molto naturali Sui toni del rosa Un po' nude Io utilizzo questo Questo matitone Della L'Oreal Il Balmy Gloss Glam Shime Che appunto Vedete Questo rosa Che è molto simile Al colore delle mie labbra Ed è comodo Anche da portare In borsa Per ridoccarsi Scusate Questo è il numero 912 Scusate Niente Questo è il look Finito Fatemi sapere Se vi piace E aspetti i vostri commentini Ciao I am flammes And I've seen All these places I'm stuck in between Now I run And I fly All the people I pretend and die I pretend I die I pretend I die I don't know where to begin All these things